È sempre più difficile raccapezzarci attraverso le informazioni che sono così abbondanti e spesso si contraddicono, mancano le certezze a cui la nostra mente è sempre stata abituata. Allora questo è l'effetto del viaggio avanti indietro di Mercurio retrogrado e del suo incontro con Plutone ma con la partecipazione anche di Venere. Siccome appunto questi movimenti creano anche molti o disagio, ho pensato di fare questo video per mostrarvi qual è il processo in atto e coglierne il succo ma soprattutto farne tesoro perché il tesoro c'è, è quello che è importante avere come faro, come bersaglio verso cui puntare. A tra poco! Bene, benvenuti Oltre il Velo, grazie per essere qui per questo contributo che tra l'altro è un contributo molto personale. Ho pensato di mostrare sulla mia mappa, proprio perché è fortemente sollecitata, l'effetto di quel viaggio avanti indietro di Mercurio e anche di Venere che si sono incontrati con Plutone. Ve ne ho parlato durante il plenilunio in cancro a partire dal minuto 22 del video che ho fatto qualche settimana fa, proprio per mostrare quali erano le cose che si sarebbero mosse. Però è importante anche avere la sensazione di che cosa ci fa sperimentare questo movimento. Allora questo video io lo sto registrando dopo aver già registrato quello dedicato al novilunio in acquario del primo febbraio, quindi possono esserci delle cose che poi sono utili per quell'altro video e quell'altro video può dare delle informazioni utili per questo, quindi insomma proprio perché non potevo fare una cosa lunga e accorpata. Allora questo viaggio di Mercurio avanti indietro e anche di Venere ve l'ho mostrato in una figura dove ho cercato di rappresentare la distribuzione nel tempo. La figura che ora vi mostro, eccola qua la figura. Allora abbiamo visto che tutto è iniziato a fine anno c'è stato l'incontro tra Venere e Plutone il 25 di gennaio, poi Venere ha incontrato Mercurio, poi Mercurio ha incontrato Plutone. Queste congiunzioni così a distanza di poco tempo ci stanno dicendo che è in atto un profondo processo di rivalutazione e di riflessione che sta letteralmente destrutturando la mente. Plutone è il pianeta della morte per la rinascita. Ci sono collegate proprio memorie cristallizzate associate alle quali ci sono anche delle sensazioni di paura profonda perché sotto nell'ade ci sono tutte quelle cose che noi non abbiamo mai voluto vedere perché sono soglie, vere e proprie soglie che ogni volta che ci troviamo appunto di fronte a questa emozione cerchiamo una via di fuga. Ecco cosa serve tutto questo? Cosa serve? Serve a far sì che poi con la capacità di testimone, del testimone che osserva cosa accade, con il lasciare che queste emozioni ci portino un messaggio visto che Mercurio è il messaggero, noi riusciamo proprio a rivedere determinate tematiche che ci portiamo appresso da molto molto tempo proprio perché Plutone sta facendo questa opera di destrutturazione con lo scopo di far emergere la nostra vera energia interiore. E quindi il periodo che intercorre tra quando tutti sono nel retrogrado e quindi la Venere è andata retrograda il 19 di dicembre, Mercurio è andato retrogrado praticamente a gennaio, a 14 di gennaio, vedete qua. Ecco noi adesso ci collochiamo in questo periodo, fine gennaio, il 9 lunio in acquario è il primo di febbraio, quindi vedete che questa fine gennaio e inizio di febbraio è importante per poter accogliere e fare tesoro di questo processo. Adesso vi racconto che cosa è successo a me per poter dare uno spunto perché poi da febbraio si mettono in moto un sacco di energie e di questo vi parlerò perché oltre al fatto che Mercurio tornerà diretto, quindi avrà avuto prima Venere, avrà sentito, rivalutato cose importanti per la nostra vita e Mercurio avrà anche le idee che non saranno ovviamente mentali, dovranno essere proprio molto collegate al sentire, ritornando diretto poi porterà in moto perché poi entrerà anche in acquario e già entra in acquario in febbraio per farci appunto ricevere delle intuizioni, dei flash, l'obiettivo è proprio quello di non continuare ad usare vecchi modi di pensare, proprio perché Plutone li sta destrutturando, ma soprattutto la possibilità di riscrivere una storia, cioè di chiudere un libro, di riscriverne un altro, perché noi stiamo cambiando paradigma e siccome ciò che creiamo dipende da ciò che crediamo e quindi ciò che crediamo dipende da ciò che abbiamo nella mente, nelle emozioni, capite bene che è cruciale questo passaggio in atto e poi tra l'altro Mercurio incontrerà Plutone il giorno 11 e poi ci sono tutta una serie di altri appuntamenti. Allora vediamo un attimo per quanto riguarda nel mio caso specifico, proprio perché in questi giorni ho proprio toccato con mano delle emozioni che mi hanno riportato a memorie molto molto antiche, quindi ve lo vorrei mostrare anche con il linguaggio dell'astrologia, ma soprattutto dando una testimonianza di come tutto questo può dispiegare e aprire sostanzialmente a nuovi livelli di coscienza. Allora in questo momento nel mio tema natale si sta formando una stella di David perché appunto ci sono Sedna alla fine del Toro e Plutone alla fine del Capricorno, quindi si mettono in trigono con il mio Urano natale che è uno dei pochi pianeti che ho in un segno di terra. Il trigono d'acqua è già parte del mio tema natale, quindi Urano si arricchisce di questo dialogo, quindi un momento profondamente trasformativo per quanto riguarda la mia ovviamente coscienza e quello che sto vivendo in questo momento. Ed ecco perché credo ci sia tutto questo coinvolgimento da parte mia con la tematica di Sedna e Ahomia perché come vedete in pratica Sedna e Ahomia è quasi congiunta al mio Marte natale e su Marte natale praticamente si viene a creare quasi un'ulteriore Iod, però appunto rispetto a quelle che già sono disponibili sul mio tema natale che sono tutte queste, vedete quante ne ho? Ecco perché mi definisco nostra signore, nostra signora delle Iod, ce ne ho per praticamente una, due, tre Iod, quindi più quell'altra che adesso si aggiunge sarebbero quattro e poi appunto due Aquiloni che sono questi, ok? Allora in questo momento andiamo a vedere che cosa sta accadendo concretamente su questa mappa. Il viaggio avanti a André di questi di questi pianeti, cioè di Venere, di Mercurio, di Plutone in questa zona, ok? Vedete che per me è fondamentale perché coinvolge appunto due case, tutte e due in cuspide con il Capricorno e in pratica la loro, questi due pianeti Mercurio e Venere, anzi Mercurio, Venere e Plutone sono importanti nel mio tema natale perché? Perché io ho il nodo sud in Scorpione, in ottava casa e lo Scorpione è governato da Plutone e il nodo nord in Toro, sulle cui vicinanze c'è Urano e il governatore del Toro è proprio Venere, ok? Mettiamo un po' più piccolo. Quindi Venere e Plutone sono importanti perché naturalmente collegano al mio, al viaggio del mio, come si chiama, da karma, d'arma, se vogliamo usare la terminologia classica dell'astrologia. In più Mercurio, vedete, nel mio tema natale, cioè nel proprio tema di nascita, Mercurio quadra i nodi. Questo lo vediamo proprio qua, in questa mappa è molto più chiaro. Mercurio, vedete, crea un quadrato a T con i nodi. Di conseguenza, questi tre pianeti hanno molto da dire su di me. I nodi lunari, soprattutto il nodo sud in Scorpione, ve ne ho parlato in occasione proprio del video del viaggio dei nodi lunari che sono entrati dal 18 di gennaio nell'asse Scorpione, nodo sud, Toro, nodo nord, hanno a che vedere questo nodo sud a memoria di traumi, traumi profondi, traumi collegati proprio ad abusi di vario tipo, perché lo Scorpione sono tutte le tematiche di manipolazione, eccetera. E Mercurio, che quadra questi nodi, ha creato tantissimi pensieri ossessivi nella mia vita, ha creato proprio anche la capacità di ricercare soluzioni, altrimenti sarei sprofondata. Probabilmente anche questo potenzialmente è un tema natale di grande sfida a livello mentale, no? E allora, in questo momento è inevitabile che questi tre signori che sono coinvolti nel mio percorso Karma Dharma, cioè in quello che io mi devo lasciare alle spalle, le memorie che hanno interferito nella mia evoluzione di coscienza, va a rovistare proprio là. E infatti, praticamente, che cosa è successo? È successo che in questi giorni, nei giorni scorsi, ho percepito un forte disagio. E allora, che cosa faccio io quando sento questi disagi? Mi metto in ascolto. So che qualcosa dentro si sta muovendo, e può essere portatore di un messaggio, e ho osservato la mente che cercavo ovviamente di trovare delle risposte, pur di non stare nel disagio. Allora, nell'arrendermi a questo, perché cos'è che siamo abituati a fare? Diciamocelo proprio in maniera molto schietta. Noi siamo abituati a, quando non sto bene, a cercare subito una via d'uscita. E' quello che ci è stato insegnato a fare. Non è bello essere tristi, non è bello avere delle cose che le emozioni sono alti e bassi, non possono essere sempre in alto. Quindi, nell'osservare la via di fuga, ho detto che, ok, so che sta arrivando qualcosa, perché, conoscendo appunto l'astrologia ci aiuta, perché, conoscendo che cosa sta accadendo, so che poi tutto questo può portare a una trasformazione, ricordiamoci Plutone che trasforma. Allora, nel sentire questa emozione mi collegava all'aspetto della difficoltà, proprio perché, essendo io acquario, la difficoltà nel vedere le situazioni in cui l'essere umano è, come dire, imprigionato nelle sue paure. L'essere umano non riesce a cogliere, ad aprire la mente. Io sono venuta qua per aprire la mente ed è quello che mi piace proporre a chi, ovviamente, segue i miei video oppure segue anche dei percorsi con me. Quindi, nel vedere l'essere umano che si perde, che si perde e che cammina con questi occhi perduti per la strada, e questo io l'ho sempre visto fin da bambina, va a toccare, evidentemente, delle memorie, perché noi veniamo qua con delle esperienze che abbiamo fatto ed è molto probabile che le esperienze che ha fatto questa anima che alberga qui dentro siano state sempre nell'ambito della conoscenza, ok? Allora, così, nell'ascoltarmi mi è tornata in mente una cosa di quando era bambina, ho fatto proprio il post su Facebook raccontandolo. Cioè, io quando ero bambina sono stata sempre, come dire, a casa, con la mamma, con le signore che abitavano nel condominio, quindi in un ambiente tutto sommato in cui io ero al centro dell'attenzione e questa cosa la si vede chiaramente perché la luna è in toro, scusate, la luna è in toro, la luna è in leone, ok? Eccola qua, la luna è in leone. E quindi, quando a un certo punto ho detto ma io vorrei andare alla scuola materna, alla scuola materna ci sono andata praticamente poco prima di compiere i sei anni, perché essendo nata a gennaio e non avendo fatto quella che si chiama la primina, io ci sono andata a sette anni. Quindi, prima di compiere i sei anni, mia mamma ha detto va bene, dai, proviamo. Le iscrizioni erano chiuse e mi sono riuscita, insomma, a far sì che mi aprissero questo posto e quindi sono entrata in questa scuola materna, gestita ovviamente da suore. E la cosa particolare è stata che, allora, la sensazione che io ho avuto è che siccome i bambini erano all'ultimo anno, si conoscevano da un sacco di tempo, io sono entrata anche, penso fosse verso quasi fine novembre, quindi mi sono trovata in un ambiente estrano, mi sono sentita una estranea e quindi percepivo, mi percepivo molto a disagio. Ecco che si è attivato, perché poi sono andata a vedere i transiti di quel periodo e la rivoluzione solare di quell'anno ed è veramente, cioè l'orologio cosmico funziona perfettamente. Era la tematica che dovevo vivere. Si doveva riattivare tutta l'energia che l'acquario ha di colui che si sente un po' diverso, io mi sentivo molto diversa, non riuscivo a stare in quelle ligie, discipline monastiche che abbiamo così. E guardate un po', io ho tutti questi pianeti personali, a parte Venere che è sulla ascendente, in casa dodicesima, la cosa dodicesima, la casa delle prigioni e tra l'altro in cuspide al ventitresimo grado del capricorno che parla di una donna che entra in convento. Quindi capite bene che io quella cosa mi faceva, non ero a mio agio vedere tutto questo standardizzato. In più appunto mi sentivo esiliata, che è la classica sindrome dell'acquario, proprio perché deve fare l'esperienza di non essere parte del modo, come dire, usuale, normale, perché l'acquario deve essere allenato a guardare avanti e andare anche se gli altri non lo seguono. Questa è proprio la lezione. E la cosa divertente è stata che c'era un bambino che veniva isolato e faceva veramente tanta compassione quel bambino e quindi io ci stavo vicino a questo bambino, anche in più tra l'altro si faceva pure la cacca addosso e quindi tutti lo evitavano. Quindi questa situazione così, no? Vedi l'acquario che cercano di aiutare sempre e al punto che un giorno sono stata ingiustamente accusata di essere io quella che si faceva la cacca addosso. Pensate un po' ridicolo perché io ho stata una bambina molto precoce e già un anno e mezzo mi tenevo pulita. Quindi mi sono sentita ingiustamente accusata. Vedete, tutte queste dinamiche fanno parte dell'esperienza dell'acquario. Ecco perché io ho detto, caspita, ma questa roba qui ancora sta riverberando se sento questo disagio, no? Che comunque in questo momento, quello che stiamo vivendo è proprio una percezione che non ci si capisce. Qualcuno cerca di andare avanti e gli altri lo guardano strabuzzando gli occhi e viceversa. Qual è la grande, chiamiamo la trappola, no? L'acquario che cosa fa per difendersi? Vuole, cioè si sente diverso e dice l'altro non mi capisce, l'altro non ha capito niente, no? Quindi io sono quello che vede avanti, sono quello che sa, ecco, io so. È proprio la frase dell'acquario, io so. Ecco noi, come ho spiegato anche nel Novilunio in acquario, noi in realtà non sappiamo niente. Noi vediamo solo dal buco della serratura, abbiamo delle feritoie. Quindi qual è l'invito? L'invito è di dire siamo a più livelli di coscienza e quindi anche se io mi sento a disagio perché il mondo sta cambiando, cioè ci sta crollando il terreno sotto i piedi, non so se ve ne siete rendi conto. Quindi è normale che nel campo emergano perché tutti stanno facendo questo processo di riorganizzazione della mente. Per esempio adesso ritorniamo qua su questo punto, anche se è sul mio tema natale, però tutti stanno facendo questo processo di ristrutturazione della mente che coinvolge, ma perché e tutti stanno rivivendo nel loro piccolo delle paure. A me riguarda tutta la tematica del collettivo undicesima casa e della prigionia della personalità, quindi del sentirsi vincolato a non poter esprimere il proprio sole, ma ognuno poi avrà il capricorno e i primi gradi dell'acquario posizionati in qualche altro punto della mappa, in altre case. Quindi se noi comprendiamo che tutti stiamo vivendo questo processo e anziché rimanere agganciato, io potrei essere andata lì e dire allora adesso devo fare qualcosa perché devo togliermi questa memoria, ma quella bambina invece ho detto ok, questa parte qui è la vecchia storia, la vecchia storia con cui sono regata, sono arrivata con delle vecchie storie, guardate qua, questa roba qui lo dice chiaramente, sono arrivata con delle vecchie storie e adesso il transito mi dà l'opportunità di dire basta. Quindi mi sono messa serena, in pace, sapendo che il processo, l'astrologia è utile per quello, il processo prevede che a un certo punto Venere torna diretta, adesso è stazionaria qua, torna diretta il 29 di gennaio, quindi porterà una valutazione diversa, qualcosa che tra l'altro sarà in trigono con Urano, quindi sicuramente porterà delle, vedete qua, 11 gradi del Capricorno, sarà in trigono con Urano che è a 10 gradi del Toro, quindi avrà un flash, un'apertura, i varchi di cui parlavamo, Plutone e Mercurio si congiungeranno lo stesso giorno in cui Venere tornerà diretta, quindi qualcosa toccherà le nostre menti, poi Mercurio andrà ancora un po' indietro e ritornerà diretto il 4 di febbraio, rincontrerà Plutone, questo è molto importante, tra l'altro a 27 gradi, 27 gradi che è questo punto importantissimo di cui vi ho parlato in occasione del plenilunio in cancro, quello che il sole ha il simbolo sabiano della voliera, quindi ci permetterà di vedere dove noi siamo rimasti avvinghiati dentro delle false sicurezze, perché pensavamo di essere liberi, invece finché abbiamo le cose che macinano sotto, non siamo liberi, la vera libertà è la libertà dalle nostre storie, perché altrimenti, come spiego nel video su Novidone in acquario, continuiamo a proiettarle e cerchiamo delle conferme in qualunque cosa succede fuori, per poter rimanere praticamente agganciati al nostro corpo di dolore, quindi Mercurio tornerà diretto e poi ovviamente a me spazzolerà tutta questa cosa qui, in acquario, e quindi abbiamo, quando Mercurio, il messaggero, Mercurio che porta le idee, Mercurio che ci libra in acquario, ha proprio le intuizioni brillanti, perché sarà carico di quello che è successo, allora noi possiamo cambiare registro, anche perché poi a febbraio, lui torna diretto il 4 di febbraio e a partire dal 6 di febbraio, Plutone, adesso vi mostro un'altra mappa, Plutone si troverà fino al 16, quindi fino al giorno del plenilunio in Leone, si troverà a fare un trigono, un trigono con il nodo nord e un sestile con il nodo sud, a 27 gradi, vi ricordo tra l'altro che a 27 gradi è dove si trova Plutone degli Stati Uniti d'America e quindi dove Plutone tornerà dal momento della Costituzione americana, abbiamo fatto anche un video riguardo a questo, quindi che cosa ci dice? Che siccome sono aspetti favorevoli, questo è una grande opportunità di rilascio di queste paure, ho avuto il tempo di ascoltarle, di rivalutarle, di non andare a cercare fuori delle risposte, perché fuori non le troveremo mai in questo momento, perché tutto in fase di destrutturazione, non funzionano più le certezze di prima. E quindi questa è la mappa che ho estratto quando sarà esattamente al grado, cioè 27 gradi, 22 primi, 49 secondi, sia i nodi che Plutone. E qui quindi abbiamo chiarissimamente la possibilità di chiudere, proprio svuotarci di legami, lo Scorpione, legami karmici collegati proprio a dinamiche che non sono più, che ci depotenziano, che ci hanno probabilmente depotenziato per tante vite, ok? E di poterci materializzare, perché siamo proprio in una trigono di terra, materializzare qualcosa di totalmente nuovo. E questo proprio ci verrà agevolato. Ora, noi sappiamo che quando ci sono di mezzo, insomma adesso che è nato un grande processo di ristrutturazione, non è che possiamo pensare come tutto questo ci verrà agevolato, perché le vie dello spirito non sono le vie dell'essere umano. Quindi può essere anche qualcosa che apparentemente non è semplice da lasciare, ma questa posizione ci dice che è il momento migliore per farlo, per distaccarci e investire, magari abbiamo sovra investito in qualcosa che pensavamo fosse importante. Questo 27 gradi dello Scorpione parla il re delle fate che raggiunge il suo regno, quindi qualcosa che era illusorio, totalmente illusorio. Capisco che mi ha assorbito un sacco di risorse, mi ha tolto un sacco di potere personale. E invece 27 gradi del toro, e qui vicino abbiamo Sedna, quindi vi ricordo sempre di sprotocollarci, parla di una donna che dopo il cambio di vita sperimenta un nuovo amore. Intanto questo può essere anche per chi ha chiuso relazioni abusive, ha avuto il coraggio di uscire da situazioni che sono state depotenzianti per tanto tempo, probabilmente dietro le quali c'erano proprio dei patti karmici fatti in vite vite, di proprio anche aprirsi a nuovi legami, a nuovi incontri. Questo può valere in qualunque campo, può essere anche una nuova attività in cui io metto la mia creatività, perché dipende sempre da dove tutti questi gradi cadono. Tra l'altro 27 sono del toro, è importante perché qui ci sono le pleiadi, le pleiadi, mandano un download di codici potenti per il passaggio di coscienza che stiamo vivendo. Una cosa importante da aggiungere è che proprio in questo punto, a 27 gradi del toro, abbiamo avuto il plenilunio in toro del 19 novembre 2021, quello con l'eclissi. e in occasione di quell'eclissi praticamente c'era stato detto che poteva esserci portato via qualcosa che ci dava la possibilità proprio di trascendere determinate tematiche per poterci collegare, aprire una porta ad un benessere oltre il conosciuto. Quindi c'era la tematica anche del femminile, che appunto è in grado di creare nuove connessioni tra gli esseri umani rispetto alle usuali modalità per ribaltare situazioni pesanti. Quindi febbraio è fondamentale per chiudersi alle spalle. Qual è la storia principale? L'ho detto nel video, lo dico nel video sul novilunio in acquario, quello di sentirci sempre sotto attacco, perché noi non abbiamo ancora consapevolizzato che la vita ci ama, che noi abbiamo diritto di vivere perché siamo degli esseri viventi. Io non devo meritare di vivere. Quando incarniamo questa consapevolezza abbiamo un potere enorme. E guardate che questa cosa, quando ho registrato il video sul novilunio in acquario, non avevo visto che c'era, non avevo ancora visto questa cosa qui che vi sto mostrando. Quel momento, nel momento in cui, questo è il 14 di febbraio, il 14 febbraio è San Valentino, la festa tra virgolette degli innamorati, cioè di che cosa sono innamorato. Io voglio innamorarmi della vita, ok? Quindi qui abbiamo proprio Marte e Venere congiunte. Quindi capite che ci sono tanti simboli che parlano di un nuovo amore. E parla, questi 15 gradi, di ragazze e ragazzi in tenuta ginnica davanti a un liceo, che sta a significare l'importanza di sentire nel corpo, l'importanza di fare comunione, com'è che faccio a non seguire i bla 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 della mente che mi fuorviano, perché la mente è basata su schemi che ormai, questo passaggio che vi ho appena mostrato di Plutone, Mercurio, eccetera, ha distrutturato, è appunto stare nel sentire del corpo, nel sentire quel barometro, che appunto è la tematica del novilunio in acquario, quel barometro che è in grado di farmi percepire nell'istante cosa è importante, cosa devo fare, uscire da qualunque ideologia, da qualunque certezza precostituita. Parliamo di certezze precostituite, quelle che ci hanno guidato. Si tratta di aprire il cuore, a testa in giù, 12 gradi. Tutti i novilunni che stiamo vivendo fino a marzo sono a 12 gradi. testa in giù, cuore sopra la testa. Allora sì che questa trasformazione cambia la nostra prospettiva, come l'ha peso, cambia la nostra prospettiva di come ha sempre funzionato il mondo, di chi siamo noi, di chi è l'altro che ho davanti. Quindi ci tenevo a fare questo breve video proprio di supporto, di non farsi travolgere a queste emozioni, di non andare a cercare sempre la risposta fuori. Bisogna avere fiducia in questo processo. Abbiamo anche Giove in pesci che sostiene questa connessione con le forze spirituali e quindi facciamo tesoro proprio di questo viaggio. Alla prossima e grazie.